Si chiama ludopatia ed è un disturbo del comportamento rientrante nella categoria diagnosticata dei disturbi del controllo degli impulsi. Ne parliamo oggi a realtà locali, bentrovati da Verusca Cestarelli. Affrontiamo un tema certamente difficile che va ben oltre il gioco e il suo significato e che rientra dunque nelle cosiddette dipendenze comportamentali. Ha una forte attinenza con la tossicodipendenza, infatti il giocatore d'azzardo patologico mostra una crescente dipendenza nei confronti del gioco, aumentando la frequenza delle giocate, il tempo passato a giocare, la somma spesa nell'apparente tentativo di recuperare le perdite, investendo più delle proprie possibilità economiche, trascurando gli impegni familiari e lavorativi che la vita gli richiede. Anche nel Piceno, con il proliferare delle sale slot, sono in aumento le dipendenze da gioco d'azzardo, situazione che si aggrava maggiormente poiché oggi è possibile scommettere giocare online, comodamente seduti davanti a un personal computer o semplicemente aprendo il proprio smartphone. È per questo che l'associazione Favonius di Castel di Lama ha avviato un gruppo psicoterapeutico per giocatori problematici e patologici. Per fronteggiare la dilagante diffusione della dipendenza da gioco d'azzardo, l'associazione Favonius ha avviato un gruppo psicoterapeutico per giocatori problematici e patologici, attivo ogni martedì dalle ore 20 e 30 alle 22 a Castel di Lama. Il gruppo sarà guidato da due psicoterapeuti esperti in dipendenze comportamentali e le persone interessate saranno ricevute attraverso due colloqui individuali in cui verranno valutate le richieste di aiuto e verranno fornite informazioni relative al percorso di terapia di gruppo, tutto ciò garantendo l'assoluto anonimato. Favonius è un'associazione no profit costituita da un team di professionisti delle dipendenze patologiche. Opera in ambito sociosanitario, prevalentemente nel campo delle nuove dipendenze patologiche. Persegue finalità di solidarietà sociale, salvaguardia del benessere psicologico della persona e della collettività e promozione di reti sociali finalizzate al miglioramento della qualità di vita. Il servizio del gruppo psicoterapeutico per giocatori d'azzardo problematici e patologici va ad aggiungersi ad altre attività avviate dall'associazione. Il contesto gruppale è ritenuto essere una strategia elettiva per le dipendenze e trae forza proprio dalla condivisione delle esperienze e la reciprocità del dare e ricevere aiuto. L'associazione Favonius promuove un nuovo servizio quindi, un gruppo psicoterapeutico per giocatori d'azzardo problematici e patologici, attivo ogni martedì dalle ore 20 e 30 alle 22 a Castel di Lama. Per Radio Ascoli, Beatrice Ciotti. Cinquantenne, professionista irreprensibile ma indebitato fino al collo, tanto da non riuscire più a mantenere il tenore di vita a cui era abituato, è questo uno degli identikit che emerge dal gruppo di psicoterapia per giocatori d'azzardo che l'associazione Favonius da anni porta avanti con grande professionalità nella massima discrezione. L'appuntamento è per ogni martedì alle 20 e 30 come ascoltavate nel servizio di Beatrice Ciotti a Castel di Lama. Appuntamento con le psicoterapeute Irene Ciabattoni, Mirca Di Pietro e la psicologa Martina Corsini. Sono dunque le nuove dipendenze causate non solo dalle slot ma anche dai tanti giochi online come videopoker, così come sono numerosi coloro che non resistono di fronte ad un gratta e vinci, ma il nuovo pericolo è anche nei ragazzi, nei giovani con un prossimo corso che sarà proprio dedicato ai genitori per capire e riconoscere le nuove forme di dipendenza che possono colpire anche i ragazzi. A fronte di anni di interventi di prevenzione nelle nuove forme di dipendenza in tutte le scuole della provincia di Ascoli e data la massiccia diffusione della dipendenza da internet partirà proprio un nuovo progetto firmato Favonius per prevenire e sensibilizzare le famiglie, in particolare i genitori, affrontando tematiche relative ai rischi della rete e le strategie per arginarli. L'associazione Favonius è parte degli enti aderenti al Connaga, coordinamento nazionale gruppi per giocatori d'azzardo dell'Assemblea del Dipartimento Dipendenze Patologiche dell'Asur Area Vasta 5. Vi ricordiamo i numeri di telefono per chiedere aiuto al gruppo di psicoterapia giocatori d'azzardo Favonius risponde al 349-1054-933 o 347-4463-820. Per realtà locali di oggi è tutto da Verusca Cestarelli, grazie per l'ascolto.